Quindi fatemi capire, due giorni fa l'Inter porta a casa un trofeo, ieri vabbè tutto a posto perché avrebbe dato troppo nell'occhio, oggi si ricomincia a parlare di conti, cose che non vanno, si butta fango, si destabilizza l'ambiente, un'altra volta, quindi un giorno tranquillo. Quindi niente analisi sulla partita, niente meriti all'Inter, di questo non si parla, si parla o delle polemiche del VAR, del presunto calcio subito da Allegri, che poverino, addirittura c'era chi aveva detto, ragazzi io ho letto sui giornali, è stato Lautaro, c'è capito perché ormai Lautaro, addirittura quando invece è un collaboratore di Inzaghi che è inciampato e gli ha chiesto anche scusa, non lo voleva fare apposta, Invece lui, Allegri, ha usato questo episodio qui per fare la vittima in conferenza e tutti i giornali leccaculo hanno fatto passare qualcuno dell'Inter che non si capiva chi fosse stato come qualcuno che prende a pedate l'allenatore della squadra avversaria, veramente questa roba qui mi fa schifo, veramente credete. Però una cosa anche all'Inter la voglio dire, è il caso che inizia a farsi sentire, secondo me, cioè è il caso che comunichi un po' meglio e che si faccia sentire nelle opportuni sedi perché veramente questa roba qui per me, cioè non questa, però per farvi capire, questi sono episodi, sono episodi, cioè una squadra esce dal campo sconfitta, l'altra esce dal campo trionfante, di quella che ha vinto si parla di tagli, estate da incubo, giocatori che vanno via, dell'altra invece si parla, cioè non si parla, anzi, magari di quanto è costato Vlaovic, di comunque quanto sta rendendo, di Allegri che è l'allenatore più pagato della Serie A, però comunque finisce la stagione con zero titoli, nonostante comunque la squadra ce l'abbia perché la Juve la squadra ce l'ha, adesso per carità il centrocampo non sarà un centrocampo dei suoi, però voglio dire neanche fa schifo, cioè non è che si parla, si fanno queste considerazioni, io non dico che la stampa debba parlare male della Juve, badate, sto dicendo semplicemente che quando si vince e quando si perde, quando finisce un torneo si fanno le giuste considerazioni, invece no. Addirittura si fa un articolo su dei ragazzi di 24 anni che hanno vinto e che si sono fumati un sigaro, cioè addirittura si arriva a giudicare dei ragazzi di 24 anni che dopo la vittoria fumano un sigaro, addirittura. Se avete fatto caso che il Milan ha interessi dagli arabi, dall'America, ovunque, questo, quello, 300 milioni sul mercato e tutto il resto, probabilmente sarà vero, non lo metto in dubbio. Poi, la Juve riparte da Vlaovic, arriva Di Maria, insomma stanno parlando anche di queste cose qui, tra l'altro ha messo like a un post della Juve, quindi è probabile, io non discuto delle notizie. L'Inter smantella, ecco le differenze, l'Inter smantella, subito così, l'Inter deve fare un attivo. Poi adesso io sono qui a parlare dell'Inter, ma quando poi tocca a voi, ne parlate anche voi, perché mi ricordo che mi sembra si parlasse della finanza arrivata in casa Juve, di Bala che andava via, insomma è un momento molto delicato per la Juve. Quindi succede, capite quello che vi dico? Secondo me, io parlo del giornalismo, cioè non sto dicendo, io sto parlando del giornalismo e di un accanimento eccessivo nei confronti dell'Inter da parte di alcune testate, questo. Grazie a tutti.